Si lascia andare in privato, nel senso che io ho altri due, quando torno a casa e mi fanno le feste, il camionone della legge sta in un angolo, guarda, poi quando gli altri se ne sono andati viene lì e tutto viene lungo, quindi anche il professor Broccoli fa un po' così, è sempre in privato si concede, lo sapete io non ero neanche a schimare gli animali, cioè non è che, spero di non offenderla, è vegetale, il broccoli è vegetale, è vegetale, allora, al decimo passo il segno dei pesci, Vorrei dire anche voi, Sole e Mercurio, un aspetto un po' strano, non lasciatevi prendere da quei ricordi, da quelle tensioni, da quei problemi che ogni tanto vi portate appresso, perché voi avete l'idea che la vita è un'esperienza meravigliosa, ma che ci sono sempre dei problemi da superare, e se non ci sono questi problemi quasi quasi ve li create, ma perché? Soprattutto questa settimana, poi se avete la pazienza di seguirvi giorno dopo giorno vi spiegherò come, quando e perché, ma per quanto riguarda i sentimenti direi via libera, a meno che non ci siano delle remore, in amore avete bisogno di molto conforto, di molta passione, a volte si dice che il segno dei pesci sia un pochino traditore, può capitare quando non è particolarmente amato.